Brutto risveglio per i fan di Uomini e Donne. Sossio e Ursula hanno messo fine alla loro storia d'amore. Niente matrimonio quindi per la coppia. E, stata una delle coppie più seguite del salotto dell'amore condotto da Maria De Filippi ed oggi sembra che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea. A dare la notizia è proprio l'ex calciatore Aruta che ha voluto condividere questo momento insieme ai suoi fan, per i quali però la notizia è davvero una batosta. Tante le coppie nate su Canale 5 e poi scoppiate dopo un breve periodo. Per loro però tutto sembrava andare a gonfie vele. L'amore tra l'ex calciatore e la parrucchiera pugliese infatti, era stato reso ancora più forte dalla nascita della loro figlia Bianca, venuta al mondo nel 2019 tra la gioia dei fan. Oggi però sembra che qualcosa tra loro si sia rotto ed il post condiviso dall'ex del trono over, non lascia spazio a fraintendimenti. Le sue parole sono giunte come un fulmine a ciel sereno per tutti, proprio quando invece si attendeva la data del matrimonio. I due infatti avevano deciso di convolare a nozze nel 2022, sognando un matrimonio da favola senza mascherine e restrizioni dovute al covid. A quanto pare però, il sogno si è infranto proprio sul più bello. Poche righe scritte con un post su Instagram per annunciare a tutti la triste notizia. Game over, ha scritto l'ex calciatore nella sua foto annunciando la fine della sua storia d'amore. Stando a quanto scritto da Sossio, sembra che i due abbiano preso la decisione di comune accordo a causa di incompatibilità caratteriali. Mentre il calciatore ha lasciato le sue parole sui social, la parrucchiera si sarebbe chiusa in un silenzio tombale almeno fino a questo momento. La coppia aveva già conosciuto un momento di crisi prima della nascita di Bianca, decidendo poi di concedersi una seconda possibilità. Sarà così anche questa volta? I fan lo sperano. La coppia aveva già conosciuto un momento. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. La coppia aveva già conosciuto un momento. La coppia aveva già conosciuto un momento. La coppia aveva già conosciuto un momento. Grazie ai noi! Grazie a tutti.